Arancione Almeno con le scarpe rosse Munir C'è Munir? Che cosa vuoi fare per questa pazienza? Non lo so Un applauso al guardialino Ma tuo figlio dov'è? Marco non può giochiare perché è venuto a vedere la partita perché ha avuto un compagno positivo quindi sta aspettando che lo combustino da l'altro Ah ok Lui non avrebbe potuto tecnicamente Ma siamo Va bene Pauri quanti anni hanno le maglie? Pensa che l'altro giorno sono stato nella sua batteria e mi sono fatto usare 200 euro Ma va? Silvia è vero 200 euro ha vinto Da noi Salvatore Cosa hai giocato? Ho preso un gratta e vinci Ah bravo Ma quelli Silvia quelli buoni ti ho detto di lasciarli per me Ma che perché? Dobbiamo fare i soldi alla casa E' anche io Se non ce la fa che ce la senti Scusate Dentro Bello Dai dai di nuovo Non si sente di giocare Lui è di giocare Silvia Allora fai i riprendi Ti faccio ti taglio i pezzi Silvia fai la brava Fai la brava Lo dico a Roby eh Bravo 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 Dai L'idea era buona L'idea era buona Ottimo Dai Dai Bravo Si è tagliato i capelli Samu No? Si 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 Perché non lo stiamo riconoscendo Cioè La ragazza dovrebbe saperlo eh La mamma magari non lo so Ma la ragazza dovrebbe saperlo Gioca la Andiamo ancora Vado 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 Ciao Ma come state? Ammazza com'è cresciuto Buongiorno 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 Già ricresciuto prima Adesso ancora di più Grazie Non lo metto Buongiorno Buongiorno Traversa Traversa Appena è colpita la traversa Traversa? Si Di chi? Chi è che è traversa? Munir 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 Bravo Munir Ciao 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 Vieni vatti vieni 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 Bravo Bravo Guarda è lì Io ho detto egoisticamente L'abbiamo partita Ma sei un capo Sei un capo assoluto Sei un capo assoluto Attraversa ripresa Anche il tuo panino E' gol E' gol E' gol Eccoci Va bene Va bene Io sinceramente Non aspetta No no dai Teniamoci Vai che sta andando via il sole Oggi è ispirato Oggi è ispirato E' tuo figlio dove? Non vedo strellaci Non l'ho convocato secondo me Perché c'era un compagnolo positivo Ah ok Non ho capito Ecco perché lì è chiuso Buona 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 Non è che hai sbagliato Juniores Tra un po' andiamo ciao vince tutto ok bravo Matti bravo Simo bravo Flavio è contro sole ma hanno sbagliato il campo dovevano prendere questo di qua era meglio e non lo so con il sole calma Gallo calma 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 vuoi fare l'albitro calma calma hai visto due pallone in campo o sbaglio? si hai visto bene bella Simo bella calma ecco la nooo ma dove l'ha visto? era davanti di due metri ma vale nei due metri c'è stai prendendo il mio posto nei due metri è autorizzato dalla legge quando dico che è fuorigioco sto prendendo il mio posto ma guarda che nei due metri vale uila fase confusionario noi 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 vai munire vai munire bravo 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 c'è in due la larga meglio meglio bravo rina bravo rina bianca freddo evo di là e dì la uno ma è lì smettere rimuovimento vai voglio Pieda a martello dai. Ah no, fuori. E' già tanto che parla, non parlano mai. Benedetto il Dio. Va bene, va bene. Vieni, vieni. Vieni, vieni. Sei tirati là. Bravo, bravo. Vai Lollo. Oh, un po' di profondità che... ...a venti metri era. Occhio. Vieni, tu sei. Vieni, parlo. Prova, no! Non perdere, non perdere. Atti, Matti. Dai! Va bene, va bene, dai. Vai! Meglio, meglio, meglio. Prima! Va bene, va bene. Dai, dai, dai. Andiamo. Calma, calma. Va bene, va bene, giusto. Non entrare, non entrare. Lollo, dai una mano. Si, Samu. Vai, vai! Tira! Va bene, va bene. Eccola! Tira! Tira! Vantaggio! Bello, bello. Bello! Bello, dai! Va bene, va bene, dai, raga! Ci sentiamoci! Calma, calma! Calma! Deciso! Deciso! Ancora, ancora! Vai! Vai! si è preso una traversa appena hai iniziato passati Noi, 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 noi! Eto! 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 Fai scaldare Jack! Jack! In teoria voi dovete fare due rompleri. Non sto dicendo niente di male, quindi è vero che non sto dicendo niente di male! Bravo, mano! Bravo, mano! Ho visto, ce n'è una! Due, due! Vai dentro, mano! L'angolo, l'angolo! Bravo! Guarda il gol! Guarda il gol! Guarda il gol! Guarda il gol! Così! Di qua, di qua! bravo Giuse bravo Matti Bollامelo favore bravo trovare bravo devo entrare 6 ets uno allostarico uno tira tira nooo va bene va bene va bene va bene non sono neanche arrivati a tutti i campi se sono ancora dentro l'arvalietto anni come faccevo io me l'andavo a prenderia perché loro non dicevano niente vabbè ma chi c'entrava con lui ormai è licenziata è un licenziata bravo bella cella bravo munito no ok barone bravo baro bravo Simo bravo Simo bravo 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 Ora ora ora! Vado, vado! Vado, vado! Vado, vado! Vado, vado, vado! 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 Vado, vado! Vai, Massé, stai lì, stai lì! A te, a te, a te, a te, a te C'è la... C'è la... Fai dietro! Fai dietro! Fai dietro a fare! Lasci Dani a Vado Sei li, sei sei lì Lasciremo giocare Das tämä bunco giusto Per,... Vedremo buco giusto per perdi la calle e stare nella pietra La padrio? Questo... ma magari non adesso che appena l'inizio però se becchiamo il contropiede alzati alzati andiamo becchi in ossa lascia lascia gioca la arena non mutarla altrimenti siamo punti a capo vai 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 ah va bene se si punte io non ho guardato quello ragazzi si 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 bravo si simon eccola bravo bravo vai matti si che hai girato mi fanno morire mi fanno morire mi fanno morire i portieri ma tutti eh dai raga un po' più di cattiveria raga bravo dai dai andiamo 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 raga lascia lascia mamò come stai posto cammini bene vedo calma te calma calma lì non uscire lancialo parti parti buongiorno no troppo va bene dai raga non sembra avanti indietro avanti indietro vieni Jack! vieni Jack! vieni! vai vai guarda la vai 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 buona Matti va bene va bene bravi Matti bravo vieni! mani vieni a mai vedete che c'è vai dentro Alza, alza! Oh raga! Va bene, dai! Fortunato che io vedo che gioco ero altra oggi chi gioca? Sì, mi ha pressato un po', minchia, bravo, bravo, bravo Giuse, oh, direttore, fai gol, eh? Matti, sulla ribattuta, Matti, tre Borsogna l'ha fatto portare, oh, l'hai detto, eh, sulla ribattuta, ma fa freddo, ragazzi, ce l'avete sempre a scusa, fa freddo, fa caldo, oh, che voglia, non é che messo il tuo, ai il mio vento, ancora? bravo, 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Tenete le gambe. Siamo. Occhio, hai la rida. Aiuta. Bravo Giuse. Tanta roba Giuse. Ah, peccato. Bravo Monir. Aspetta la sopra. Barico e mando. Scarico. Bando Baro. Una buona azione. Bella, bella. Bravo Baro. Non c'è nessuno che... Sì, Matti. Boom. Cazzo. Boom. Oh. Tira. Dai. Sì. Non c'è nessuno che siamo. Sì, dali. Sì, dali. Sì, dali. Sì, dali. Sì. sembra che non hanno tanta voglia vero? sì vai Baro, vai Baro, vai Baro, credici Baro bravo Baro bravo i tre attaccanti non c'è nessuno che ricorda non c'è nessuno in aree, guarda i tre attaccanti sono tutti a 10 metri bravo Samu dove andate? dove andate tutte e due? dove andate? state qua guarda no guarda io ho divirato la delizione dai Loni la Barone andiamo dai dì qua dì qua gira di qua va bene va bene facciamo un'intervista cosa ne pensa di questi 20 minuti grazie lascia uscire non c'è il 9 dai dai andiamo andiamo